E' un giallo la morte di un 52enne paziente della clinica neurologica di Biogo Foscolo. L'uomo si era chiuso a chiave in bagno ma quando i soccorritori sono entrati era già senza vita. La procura ha aperto un'inchiesta. Allarme è mattinata al Dipartimento di Astronomia dell'Università di Bologna in Biaranzani per una fuga di gas che ha reso necessaria l'evacuazione di aule ed uffici. Ci sono intervenuti i vigili del fuoco e tecnici di era. Stop alla frammentazione sindacale soprattutto in periodi di crisi. Il numero uno degli industriali bolognesi Alberto Vachi critica l'accordo separato tra GD e FIOM che sta suscitando forti polemiche. La CISL ringrazia un'industria e un interlocutore attento. Virtuosa nei bilanci, fedele e puntuale nel pagare le tasse e l'identikit della regione Emilia-Romagna che però in cambio non riceve sufficienti risorse economiche dallo Stato. Basta con i tagli generici, dice la CNA, bisogna valorizzare chi se lo merita. Apre i battenti, sabato prossimo l'edizione 2011 del Motor Show, la celebra Kermess motoristica che attira migliaia di visitatori. 48 le anteprime di quest'anno. La madrina della manifestazione sarà la modella Slava, Nina Senicar. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano la cronaca si era chiuso a chiave in bagno nella clinica neurologica di Via Ugofoscolo a Bologna dove era ricoverato ma quando i soccorritori sono riusciti a entrare l'uomo era morto. Sono da chiarire le cause del decesso di un paziente di 52 anni avvenuto la scorsa notte. Gli infermieri si sono accorti che si era chiuso in bagno e dopo aver tentato in vano di aprire la porta hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco e la polizia. Il 52enne sarebbe stato stroncato da un malore ma ora la procura vuole vederci chiaro e ha fidato alla polizia ulteriori indagini per accertare le cause della morte e anche la tempistica degli interventi di soccorso. Allarme questa mattina al Dipartimento di Astronomia di Via Ranzani sui viali. Una fuga di gas ha reso necessaria l'evacuazione delle aule e degli uffici. Ma vediamo cosa è successo nel servizio di Simone Iannese. Un fortissimo odore di gas ha creato allarme stamattina poco prima di mezzogiorno nei locali, nelle aule e negli uffici della Facoltà di Scienze Statistiche del Dipartimento di Astronomia di Via Ranzani, lungo i viali di circonvallazione. In pochi minuti i pompieri sono arrivati sul posto, il tempo di valutare la reale situazione di pericolo e poi la decisione di evacuare tutti gli occupanti, un centinaio di persone, tra dipendenti, docenti e studenti distribuiti tra le aule e le sale di lettura. Molti sono rimasti all'esterno nella speranza di rientrare in breve tempo, ma è probabile che gli scavi per individuare la fuga si protrarranno per qualche ora. A dare manforte ai vigili del fuoco sono arrivate anche due squadre di pronto intervento dei tecnici di era che hanno subito iniziato a scavare per individuare, grazie anche all'utilizzo di un apparecchio laser, il punto esatto della rottura della tubatura che ha poi provocato la fuga di gas. La perdita ha creato qualche problema anche agli automobilisti di passaggio dal momento che la Polizia Municipale ha preferito chiudere per motivi precauzionali l'intera Via Ranzani. L'Emilia Romagna è tra le ultime regioni per quanto riguarda i trasferimenti dello Stato, pur essendo virtuosa nei conti. Lo denuncia la CNA regionale tramite una ricerca del Centro Studi di Mestre. Gli artigiani chiedono al Governo Monti di invertire questa tendenza. L'Emilia Romagna è in zona retrocessione per quanto riguarda i finanziamenti statali, pur essendo una regione virtuosa nei bilanci e nella fedeltà fiscale, è penalizzata dai tagli agli enti locali. Lo dice una ricerca realizzata per CNA dal Centro Studi Sintesi di Mestre. Occorre invertire la tendenza e premiare chi se lo merita, dice il segretario regionale di CNA Gabriele Morelli. Sicuramente siamo il più grande contribuente insieme ad altre due o tre regioni del Centro Nord del bilancio dello Stato. E questo da parecchi decenni purtroppo, con cifre rilevanti, perché se pensiamo solo al calcolo del residuo fiscale del 2009 stiamo parlando di 4.200 euro per cittadino emiliano. Quindi fate il conto per 4 milioni, cosa significherebbe ogni anno avere nelle casse a disposizione della Regione. Noi abbiamo voluto far venire fuori questi dati con un'apposita ricerca per dire nel momento in cui il governo Monti, appena insediato, si prepara, predispone alle grandi riforme strutturali, che queste non possono più essere improntate ai tagli lineari e generici, perché queste differenze vanno premiate. Noi fino ad oggi, sull'onda dell'emergenza, siamo stati solo penalizzati. Penalizzati due volte, perché prima siamo stati virtuosi, abbiamo prodotto risorse proprie e dall'altra parte poi ci hanno tagliato come quelli che invece sono stati spreconi. Occorrerà finire, completare il federalismo e fare un nuovo patto fra nord e sud perché ne va della coesione del paese. Evitare la frammentazione della rappresentanza. Il momento difficile richiede un forte senso di responsabilità. Quanto afferma il presidente di un'industria, Alberto Vacchi, commentando la vicenda della società GD, protagonista nei giorni scorsi di una intesa separata con la FIOM CGL. In un momento difficile per l'economia è necessario ridurre ogni possibile radicalizzazione e invece ritrovare uno spirito unitario per evitare la frammentazione della rappresentanza. Così, in una nota, il presidente di un'industria a Bologna, Alberto Vacchi, commenta la vicenda della società GD, protagonista nei giorni scorsi di una intesa separata con la FIOM CGL. La trattativa conclusasi la scorsa settimana in una delle imprese Fioralocchiello del nostro territorio anche per la qualità delle relazioni industriali ha avuto un percorso unitario e condiviso con tutte le organizzazioni sindacali e la RSU, Servavacchi. Da quanto ci risulta, tutte le parti hanno contribuito in modo unitario al raggiungimento del risultato finale e crediamo che su questo aspetto sostanziale vi sia un consenso unanime delle parti. Ad ogni modo, sottolinea Vacchi, ci sembra evidente che la forma con la quale si è perfezionato tale accordo possa generare un clima di conflittualità, ancora una volta a danno dell'unità sindacale, requisito fondamentale per garantire un clima di contrattazione sereno. Il momento che stiamo attraversando ci richiede un forte senso di responsabilità, aggiunge. Non possiamo permetterci di aprire ora con le imprese nel guado di una crisi drammatica un conflitto tra le diverse parti sindacali. Il fatto che si sia insediato un nuovo governo nazionale non significa che siamo usciti dall'emergenza. E la presa di posizione del presidente di un'industria a Bologna, Alberto Vacchi, che alla luce della vicenda GD invoca in una nota uno spirito unitario per evitare la frammentazione della rappresentanza sindacale strappa. Commenti positivi ai vertici della CISL bolognese. Soddisfatti dell'apertura di credito del numero uno degli industriali felsinei, siamo molto grati a Vacchi per la sollecitudine e l'attenzione dimostrata, dichiarano Alessandro Alberani, segretario generale della CISL cittadina, e Marino Mazzini, segretario generale della FinCISL di Bologna. Apprezziamo i toni della lettera, dicono. Il presidente di un'industria ancora una volta si è dimostrato un interlocutore attento alle tematiche esposte dalle organizzazioni sindacali. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, riceverà dall'Alba Mater il prossimo 30 gennaio la laurea Noris Cause in relazioni internazionali e inaugurerà l'anno accademico 2011-2012. Il riconoscimento proposto dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna e dalla Facoltà di Scienze Politiche Roberto Ruffilli, sedia di Forlì nei rispettivi corsi di laurea magistrale, gli verrà conferito dal rettore Ivano Dionigi durante la cerimonia di inaugurazione e il presidente terrà un alexio magistralis. Il rettore esprime grande soddisfazione e riconoscenza a nome di tutta la comunità universitaria. Sarà l'occasione, commenta, per onorare l'altissimo profilo nazionale e internazionale, politico e istituzionale del nostro presidente e riconoscere il suo impegno culturale, civile e morale, la sua costante ed efficace attenzione e vicinanza alla causa della ricerca, della formazione e del futuro dei giovani del nostro Paese. Intanto si allarga la pattuglia dei bolognesi entrati a fare parte della squadra del Premier Mario Monti. Sono stati infatti nominati sottosegretari Elena Ugolini e Gianluigi Magri. Vediamo un profilo breve dei due nel servizio di Gabriele Sciarra. Si allarga la pattuglia dei bolognesi entrati a far parte della squadra del Premier Mario Monti. Dopo Piero Gnudi e Anna Maria Cancellieri nominati ministri rispettivamente allo sport e turismo e all'interno, altri due concittadini hanno ricevuto incarichi di governo. Si tratta di Elena Ugolini, sottosegretario all'istruzione, Gianluigi Magri, sottosegretario alla difesa riminese. Di nascita, bolognese d'adozione, la Ugolini è laureata in filosofia all'Università di Bologna, è sposata e ha quattro figli, 52 anni, attualmente preside del Malpighi. Ha già collaborato con il Ministero della pubblica istruzione nel 98 e successivamente nel 2001, con un gruppo di lavoro voluto dalla loro ministro, Letizia Moratti. Dal 2002 è membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Invalsi, di cui oggi è parte del Consiglio Direttivo. Gianluigi Magri è nato invece a Bologna nel 1955, laureato in medicina, sposato padre di una figlia e cardiologo al Sant'Orsola. Nell'85 entra nel Consiglio Comunale di Palazzo d'Acursio, prima tra i banchi della democrazia cristiana, poi nell'Udc. Ha pubblicato diverse opere scientifiche e ha collaborato con il CNR e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha fatto parte dei consigli di amministrazione di Carisbo e era, Magri è già stato sottosegretario all'economia dal 2003 al 2005 con il governo Berlusconi. Dopo la nostra inchiesta sulla situazione nella zona universitaria, oggetto di una parziale pedonalizzazione avviata tre anni e mezzo fa, il caso arriva in Consiglio Comunale, dove il capogruppo della Lega Nord, Manes Bernardini, chiede un'udienza conoscitiva in vista delle altre pedonalizzazioni che dovrebbero essere avviate dal Comune. Servizio di Massimo Ricci. La zona U approda in Consiglio Comunale. Dopo la nostra inchiesta sulla situazione delle strade che tre anni e mezzo fa sono state parzialmente pedonalizzate, ieri in aula è stata chiesta un'udienza conoscitiva per ascoltare in commissione commercianti e residenti e verificare la riuscita o meno del provvedimento. Il tutto in vista del piano generale sulla pedonalità che il Comune presenterà il 3 dicembre. In Consiglio il capogruppo della Lega Nord, Manes Bernardini, ha chiesto l'udienza conoscitiva spiegando così le motivazioni. Ritengo che sia utile, prima di procedere, valutare a distanza di anni quello che è stato un esempio di pedonalizzazione venduto, ripeto, con le fanfare del successo, ma che oggi invece dalla voce degli stessi intervistati per l'emittente di TV dimostra invece un totale scollamento tra gli intenti e la realtà purtroppo che vive la zona interessata. Abbiamo depositato pochi minuti fa la richiesta di udienza conoscitiva per chiamare i commercianti, i residenti, le associazioni che gravitano sull'area universitaria, la cosiddetta zona U, per interrogare loro e vedere quelli che sono gli effetti di questa pedonalizzazione. In primis, per capire se effettivamente quando ci si dà degli obiettivi che possono essere nobili sulla carta ma altrettanto non nobili negli effetti, veramente si fanno scelte amministrative giuste e lungimiranti. E secondo, perché costituisca la base di un ragionamento serio da affrontare in via preventiva in quelle scelte amministrative che riguardano le future pedonalizzazioni. E oggi Silvia Ferraro del Comitato Contrada delle Acque plaude l'iniziativa e si dice pronta, assieme ad altri esercenti e residenti a venire in commissione a informare il Consiglio. La mafia fa schifo, un giudizio che non lascia spazio ad ambiguità di nessun tipo ed è stato espresso da uno dei tanti giovani che vivono nei luoghi del nostro paese controllati da questo potere criminale. Ma è anche il titolo di un libro che raccoglie i racconti di quei ragazzi. Un lavoro portato a termine dal giornalista Antonio Nicaso e dal procuratore Nicola Gratteri, uno dei magistrati più impegnati nella lotta alla Endrangheta. Il libro è stato presentato oggi a Bologna ad un pubblico di giovani delle scuole medie superiori. Ci ha dato per ogni Gabriele Sciarra. Ne abbiamo approfittato anche per fare il punto con lo stesso Gratteri sulle infiltrazioni criminali nel nostro territorio. Vediamo. Dottor Gratteri, neppure l'Emilia-Romagna è immune da fenomeni di infiltrazione mafiosa. Che cosa? Chi deve fare cosa per arginare questo fenomeno? Guardi, le mafie sono presenti anche in Emilia-Romagna da più di dieci anni perché soprattutto la società civile non era attrezzata a questa presenza delle mafie. Oggi per le mafie è più facile entrare in zone ricche come l'Emilia-Romagna perché mentre prima si presentavano con la violenza, sparando, minacciando, oggi le mafie si presentano proponendo servizi a prezzi stracciati perché riescono ad assumere personale in nero, quindi non assicurato, sottopagato e quindi a fare delle opere, dei servizi a prezzi bassissimi, riuscendo ad avere in dei settori addirittura il monopolio. E quali attenzioni vanno attivate dunque? Ma nella sostanza per abbattere le mafie ci vorrebbe un sistema giudiziario diverso rispetto a quello di oggi, un codice penale, un ordinamento penitenziario proporzionato alla realtà criminale e poi ci vorrebbe una scuola a tempo pieno dove i ragazzi non solo la mattina imparino la lingua italiana, la storia di geografia e la matematica, ma a pomeriggio stiano assieme e allora tutto questo comporta però una volontà politica e comporta anche dei soldi. Arrivano finanziamenti da parte della Regione per le scuole dell'infanzia del territorio bolognese. Questo contribuirà a ridurre le liste d'attesa ma i bimbi che rimangono fuori sono ancora circa 350. Sono nove le scuole dell'infanzia della provincia di Bologna che anche quest'anno beneficiano dei fondi stanziati dalla Regione per ridurre le liste d'attesa. Per l'anno scolastico 2011-2012 l'intervento consente di recuperare un altro centinaio di posti ma secondo le stime molto approssimative della provincia al momento resterebbero fuori ancora 350 bambini. Abbiamo dato continuità all'azione dell'anno scorso spiega l'assessore provinciale all'istruzione Giuseppe De Biasi con la limitazione di un taglio dei due terzi allo stanziamento passato da 400.000 a 139.000 euro. L'intervento di quest'anno eroga un contributo di 14.500 euro finalizzato al mantenimento di una nuova sezione attivata l'anno scorso a Vergato e cinque contributi per la conferma di completamenti orari, due sezioni a croce di Casalecchio e una a Molinella, Pieve di Cento, Dozza e Zola Predosa. Tre infine i contributi erogati per nuovi completamenti orari a Sant'Agata Bolognese, Crevalcore, ma l'albergo. L'ultima rilevazione a disposizione della provincia precedente a questo intervento calcolava una lista d'attesa di circa 450 bambini su tutto il territorio provinciale, considerando che tra le nove scuole interessate si possono recuperare un centinaio di posti, resterebbero ancora fuori circa 350 bimbi. Non escludiamo che la regione possa intervenire in questo scorcio d'anno con una integrazione di fondi alla speranza di De Biasi. L'assessore provinciale infine ha reso noto che proprio questa mattina la Giunta ha deliberato lo stanziamento di 30.000 euro per interventi contro la dispersione scolastica dedicati ai quindicenni. Una breve pausa e poi saremo di nuovo in studio con altre notizie e altri servizi. A tra poco. Di nuovo in studio con Tg, prima di andare avanti rivediamo insieme i titoli del nostro giornale. È un giallo la morte di un 52enne paziente della clinica neurologica di Viogo Fosco. L'uomo si era chiuso a chiave in bagno ma quando i soccorritori sono entrati era già senza vita. La procura ha aperto un'inchiesta. Allarma in mattinata al Dipartimento di Astronomia dell'Università di Bologna in Via Ranzani per una fuga di gas che ha reso necessaria l'evacuazione di aule ed uffici. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di era. Stop alla frammentazione sindacale soprattutto in periodi di crisi. Il numero uno degli industriali bolognesi Alberto Vacchi critica l'accordo separato tra GD e Fiomma che sta suscitando forti polemiche. La Cisle ringrazia un'industria e un interlocutore attento. Virtuosa nei bilanci, fedele e puntuale nel pagare le tasse, l'identikit della regione Emilia-Romagna che però in cambio non riceve sufficienti risorse economiche dallo Stato. Basta con i tagli generici, dice la CNA, bisogna valorizzare chi se lo merita. Apre i battenti, sabato prossimo l'edizione 2011 del Motor Show, la celebre kermessa motoristica che attira migliaia di visitatori. 48 le anteprime di quest'anno, la madrina della manifestazione sarà la modella slava Nina Senikar. Andiamo avanti con il giornale. Le malattie respiratorie sono in costante crescita e causano ogni anno in Italia il 14% delle morti. Se ne parlerà a Palazzo dei Congressi a Bologna da domani fino al 3 dicembre. Questa mattina c'è stata la presentazione del congresso in Camera di Commercio. Vediamo allora per saperne di più l'intervista a Franco Falcone, presidente dell'Aipo, l'associazione italiana pneumologi ospedalieri che ha organizzato il congresso. Professore Falcone, per la prima volta un congresso nazionale di pneumologi si svolge a Bologna, un appuntamento importante. Sì, è un appuntamento che io ho voluto con molta forza e molta volontà, perché portare il congresso dei pneumologi per la prima volta nazionale a Bologna per me era non solo un piacere essendo io nato e vissuto a Bologna, ma anche un momento di valorizzazione della città. La città merita di fare e svolgere in sé appuntamenti importanti perché ne è capace e lo deve dimostrare. Quali saranno i temi trattati da questo congresso? Il congresso si distribuisce in tre filoni principali, che sono le malattie croniche invalidanti, quelle che tolgono il respiro e impediscono alla gente di vivere normalmente, il tumore polmonare e le malattie infettive. Sono la grande parte fondamentale delle malattie respiratorie. Poi è chiaro che ci sono capitoli dedicati anche alle malattie più rare e che colpiscono la fantasia, come la sclerosi laterale amiotrofica dei calciatori, ma il filone principale è quello. Saranno illustrate anche nuove scoperte? Ci sono filoni pressoché costanti di nuove individuazioni. Nelle malattie croniche invalidanti, ad esempio, costantemente emergono nuovi farmaci o addirittura nuove tecniche. Ad esempio, una che mi viene in mente è quella dell'asma, di provare a cuocere quei punti dei bronchi che determinano il broncospasmo e cercare così di risolvere questo problema. O in altre patologie neoplastiche, quelle di avere nuovi farmaci e nuovi metodi diagnostici che ci consentono di fare la diagnosi precoce. Sono malattie sempre più diffuse oggi come oggi per varie cause, è stato detto oggi. Le malattie oncologiche sono malattie enormemente diffuse. Il tumore polmonare è fortunatamente in riduzione negli uomini, ma purtroppo in aumento nelle donne per il vizio del fumo che non riescono a togliersi. E in più c'è in aumento una particolare forma di tumore polmonare, l'adenocarcinoma, che sembra derivare più dalle origini da inquinamento. Questo richiede una forte attenzione, ma proprio in questo congresso presenteremo le nuove linee guida sullo screening per la diagnosi precoce del tumore polmonare con l'attac a bassa dose di emissioni di radiazioni. Ultima pagina, si apre sabato a Bologna, l'edizione 2011 del Motor Show, l'appuntamento motoristico più atteso dell'anno e che nonostante la crisi propone 48 anteprime con il tradizionale connubio tra motori e bellezza. Vediamo. Sarà la modella e showgirl di origine slava Nina Senikar, la madrina del Motor Show di Bologna, che ormai è nastri di partenza per la sua 36esima edizione. Nata 26 anni fa nella città serba di Novi Sad, la Senikar, che ha al suo attivo diverse sfilate, campagne pubblicitarie, apparizioni tv, visiterà il salone il 3 dicembre, nella prima giornata di apertura al pubblico. Vista la concomitante presenza della Ferrari, non mancherà un abbraccio tra la regina del Motor Show e la regina dei circuiti di Formula 1 a ricomporre un binomio donne e motori da sempre caro al pubblico della manifestazione. Intanto sono salite a 48 le anteprime che le case auto mostreranno in questa edizione, 8 le anteprime mondiali, mentre 6 sono i debuti europei e 34 le anteprime nazionali. Una Kermes che punta a rilancio, nonostante il periodo di crisi che coinvolge anche il mercato automobilistico tra alti e bassi. Non per niente, dopo il record mondiale registrato nel 2007 con 49,3 milioni di autovetture immatricolate, c'è stato un calo del 2% nel 2008 e nel 2009, ma già nel 2010 si è raggiunto un nuovo record assoluto con 52,3 milioni di autovetture. Una crescita trainata in larga parte dai paesi di più recente motorizzazione di massa, come Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, mentre la situazione resta più complessa altrove. Il mercato europeo dell'auto continua a configurarsi debole, ma non in caduta. Il consuntivo dei primi dieci mesi chiude con 11.505.000 immatricolazioni e con una contrazione dello 0,9% rispetto al 2010. Secondo il centro studi promotor GL Events, negli ultimi due mesi dell'anno, non vi dovrebbero essere variazioni di tendenza e quindi il 2011 si chiuderà sui livelli dell'anno precedente. Più difficile invece la situazione italiana, con un calo del 9% nel 2010 e una previsione per il 2011 dell'11% in meno. Vista la presenza di marchi e gruppi importanti con lanci strategici per il mercato italiano, il Motor Show torna alla sua dimensione consueta, occupando praticamente tutto il quartiere fieristico, tornando al layout del 2008, incluse le aree esterne per i test drive, che saranno 8. Non mancheranno, come la tradizione, gare ed esibizioni sul circuito della Mobile Uno Arena e la presenza dei diversi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Ancora una breve pausa e poi saremo di nuovo in studio. Tra poco. Di nuovo in studio con ETG. Non ci sono notizie dell'ultima ora, siamo in chiusura. Andiamo a rivedere ancora una volta i titoli del nostro giornale. E' un giallo la morte di un 52enne paziente della clinica neurologica di Viogo Foscolo. L'uomo si era chiusa a chiave in bagno, ma quando i soccorritori sono entrati era già senza vita. La procura ha aperto un'inchiesta. Allarme mattinata al Dipartimento di Astronomia dell'Università di Bologna in Via Ranzani per una fuga di gas che ha reso necessario l'evacuazione di aule ed uffici. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di ERA. Stop alla frammentazione sindacale, soprattutto in periodi di crisi. Il numero uno degli industriali bolognesi, Alberto Vacchi, critica l'accordo separato tra GD e FIOM che sta suscitando forti critiche. La CISL ringrazia un'industria, un interlocutore attento. Virtuosa nei bilanci, fedele e puntuale nel pagare le tasse e le identikit della regione Emilia-Romagna che però in cambio non riceve sufficienti risorse economiche dallo Stato. Basta con i tagli generici, dice la CNA, bisogna valorizzare chi se lo merita. Apre i battenti, sabato prossimo l'edizione 2011 del Motor Show, la celebre Kermess motoristica che attira migliaia di visitatori. 48 le anteprime di quest'anno, la madrina della manifestazione sarà la modella Slava, Nina Senikar. Ed è tutto con questa edizione del nostro giornale, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata, arrivederci. Grazie per l'attenzione, grazie per l'attenzione, grazie per l'attenzione.